Ciao, buonasera. Penso che noi abbiamo un centrocampo molto forte, abbiamo tanti giocatori con qualità, che stiamo facendo bene, stiamo crescendo. Penso che forse qualche anno possiamo diventare il centrocampo più forte. Adesso pian piano stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. Penso che stiamo arrivando ad un certo livello, alto, dove per mantenere si va tanto lavoro, tanto sacrificio. Penso che pian piano stiamo arrivando. In Spogliatori c'è un bel clima, una bella energia, tutti contenti lavorando tanto per fare un grande anno con il Napoli.